Uno dei punti fondamentali e essenziali del nostro programma è la vivibilità urbana. Il cittadino paga le tasse e giustamente pretende servizi. Saremo un'amministrazione di strada nel senso più nobile del termine attenta ai problemi della città girando in lungo e in largo le strade cittadine e quindi monitoriamo il territorio quartiere per quartiere. Sono con Antonella D'Andria che è una nostra candidata al Consiglio Comunale di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva. Siamo qui in via Rizzitelli a pochi passi da via Medaglie d'Oro, la solita solfa, buche, marciapiedi dissestati, lavori fatti dalle ditte per le utenze private, lavori vengono sfregiati, viene sfregiato il manto stradale e naturalmente non viene più ricoperto da asfalto. Un vero percorso di guerra. Sì, sì, infatti io ho precisato questa cosa, dottor Abbate, proprio perché è da diversi, ma da tantissimi anni, io abito proprio qui alle spalle, quindi è da tantissimi anni che si nota questo manto stradale così dissestato, che non è stato mai, mai preso in considerazione da diverse amministrazioni passate. Quindi ora abbiamo sollecitato un attimo il dottor Abbate che subito è intervenuto affinché si possa risolvere al più presto questa situazione, perché lavori fatti in una maniera proprio indecente, lasciato questo manto stradale già in via proprio di abbandono. Ora ancora di più perché questi rattoppi che sono stati fatti non creano altro che un dislivello stradale che per le macchine diventa veramente uno slalom. Ma è un problema anche per le persone, perché nel momento in cui si attraversa la strada o anche come stiamo qui, automaticamente penso soprattutto alle persone che hanno problemi di deambulazione, penso a un anziano e i rischi sono notevoli. Sono notevoli, certo, come no? E infatti non bisogna camminare con la testa alzata, ma bisogna camminare sempre con la testa in giù, ma non è normale questa cosa perché comunque bisogna provvedere al più presto, sperando che con la nuova amministrazione, con il dottor Abbate, riusciamo a risolvere questi problemi che, anche perché è una persona molto molto vicina alle problematiche della città. Ecco io in 21 anni di attività giornalistica mi sono soffermato tantissimo, oltre che sulla questione ambientale, su quello della vivibilità urbana. Devo dire che un po' le strade di Taranto le conosco forse meglio delle mie tasche. E qui è un problema di proprio funzionamento della macchina amministrativa, perché c'è il settore lavori pubblici che va certamente rivoluzionato. Rivoluzionato nel senso che ci devono essere controlli continui, verifiche, sopralluoghi, perché non è possibile che lavori fatti con i nostri soldi, con i soldi dell'ente comune, con i soldi del cittadino contribuente, poi siano lavori eseguiti in modo pedestre. E idem dicasi i controlli per quanto riguarda le ditte che fanno i lavori per conto delle utenze. Qui sembra la terra di nessuno. È vero, è vero, è terra di nessuno. Cioè proprio siamo al completo abbandono. Alla fine comunque è una strada sempre abbandonata, il tribunale è alle spalle. Quindi camminare in questa situazione diventa veramente pericoloso, sia per la gente che anche per le macchine, che comunque ci sono tutti questi avallamenti non belli, non buoni chiaramente, che dovremmo assolutamente rivedere, penso a più presto, col dottor Abate che sicuramente sarà molto vicino. Per concludere, nel nostro programma amministrativo c'è quello di creare un ufficio di pronto intervento, io lo chiamo di SOS, per i casi ovviamente più urgenti, la buca, il marciapiede, ma qui non è questione di rattoppi, qui è questione di programmare i lavori ex novo delle strade e poi ripristineremo anche le circoscrizioni, perché la legge ce lo consente, le circoscrizioni permettono, assolvono a quella funzione di filtro che un sindaco, un assessore magari non conosce. Però ovviamente una partecipazione dal basso, un coinvolgimento proprio dei quartieri, permette di avere la piena consapevolezza dei problemi. Sì, sì, infatti sono completamente d'accordo con te in questa cosa, sperando che al più presto venga eletto il dottor Abate e possiamo risolvere finalmente i problemi della nostra città. A da passare a nuttata, diceva il buon Edoardo, il 12 giugno si avvicina che sia davvero l'alba di un nuovo giorno. Taranto senza ilva, senza se e senza ma. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS